È successo proprio oggi, in questo momento, pochi minuti fa, una super liquidazione e una fake news che ha dato spazio a una massiccia liquidazione degli short ed è stata messa in ballo addirittura da Cointelegraph che comunque si fa, diciamo, un po' beffa del mercato e tira fuori anche questo tweet, guardatelo qui, il tweet di scuse, ma queste sono scuse un po' che lasciano il tempo che trovano perché sono stati liquidati 50 milioni di short selling per una fake news sull'ETF di BlackRock approvato che poi non è assolutamente vero e in pratica è uscito fuori questa fake news indetta da Cointelegraph sull'approvazione da parte della SEC dell'ETF di Bitcoin che ha dato spazio ad una super pump di Bitcoin Nell'arco di pochissimo tempo vi faccio vedere l'entità nell'ambito del grafico a 15 minuti vi faccio vedere l'entità del rialzo è stato dell'8% in pochissimi minuti poi subito riassorbito perché era una fake news, quindi il mercato se ne è accorto, una super massiccia manipolazione molti si chiedono questo perché la manipolazione ha dato spazio ad una liquidazione massiccia di short selling che erano aperti sul mercato crypto in quanto ha innescato su Bitcoin, in quanto ha innescato in pratica il break di alcuni livelli di supporto importanti di resistenza, in questo caso importantissimi che erano quelli che stavano in pratica tenendo quelli che avevano le operazioni short in particolar modo questo livello qui ragazzi, 28.000 tra 28.004 da qui partono una raffica di liquidazioni che spingono il prezzo di Bitcoin a toccare quasi 30.000 dollari di nuovo con questa super shadow rialzista che è tutta un fake, è tutta un gioco il gioco delle tre carte, è stato fatto apposta, non è stato fatto apposta Cointelegraph si giustifica dicendo che ci sarà un'investigazione interna all'interno del giornale perché sono cose molto gravi queste qui ragazzi, ovviamente non si può far uscire una news del genere su una testata giornalistica di questa levatura, cioè non è che è nel sito il bloghettino di turno e quindi si scusano e ovviamente e poi fanno una investigazione interna e dentro tre ore tireranno fuori i risultati e ci diranno che cosa è successo, chi è stato e se qualcuno pagherà per questa questione. È stato fatto un test, poi è successo un po' di tutto ragazzi su X, l'ex Twitter, infatti ho pubblicato una serie di tweet dove abbiamo seguito un po' tutto quello che era la vicissitudine dal ETF approvato, poi appunto immediatamente dopo ho dovuto scrivere che era una fake news, molti utenti mi avevano anche scritto questa cosa perché stavamo aspettando informazioni ma il mercato aveva già iniziato in pratica a stornare e poi il test di questo livello, questo è un test in pratica che è stato fatto per vedere che cosa succede alla produzione del mercato e poi ho mostrato la tabella della liquidazione, va bene ragazzi allora intanto seguitemi su X, Twitter, vi lascio link in descrizione gratuita ovviamente, la pagina, il profilo e andiamo a vedere un po' che cosa è successo effettivamente a livello grafico queste cose non sono mai un bene perché dimostrano in pratica quanto questo è un mercato estremamente piccolo, estremamente illiquido, quanto può essere manipolato addirittura da una news semplice di una testata giornalistica, dimostrano anche poca serietà perché è una testata giornalistica che ripeto non è il bloguettino di turno ma è una testata importante ragazzi perché non era una cosa così cioè non è una fonte, è una fonte autorevole come se Bloomberg oppure il Sole24 in Italia per esempio tirano fuori una news del genere e ovviamente non hanno le fondamenta per scrivere un tweet di questo tipo quindi sicuramente dimostra poca serietà, scarsa serietà in questo mercato ancora una volta fa tirare un po' i fili ai soliti manipolatori per poi tirare l'acqua ai propri mulini e forse addirittura un dato anche negativo che dimostra proprio come l'immaturità di questo mercato non sia da approvazione dell'ETF della SEC qui entriamo poi nelle opinioni, fatemi sapere però anche voi che cosa pensate di una news del genere fatta apposta o no? Questa è la domanda, è stato fatto un test tanti anni fa io nella mia carriera diciamo da investitore e trader quando seguivo i mercati tantissimi anni fa l'ho visto fare, ve lo dico in maniera molto chiara sono passati decenni, ho visto fare questi news diciamo centellinate e poi tirate subito indietro, quindi pubblicate e poi no è una fake, tirate indietro l'idea di fondo era stata quella di testare le reazioni di un mercato allora erano mercati internazionali ma non mi soffermo qui su queste cose per capire che cosa sarebbe successo, in effetti quello che è successo lo abbiamo palesemente visto ragazzi cioè non è che stiamo parlando di un super app gigantesco e di questo ve ne avevo parlato anche nell'ultimo video che ho fatto, a proposito l'ultimo video sta andando una bomba ragazzi quindi grazie a tutti per la semplice fiducia che sempre mi date vi lascio il link in descrizione per chi non l'avesse visto ma ha raddoppiato le views classiche dei miei video in questo lasso di tempo quindi sta andando benissimo è un video su cui ho speso veramente tanto tempo riguardo appunto quello che c'è da attenderci per il prossimo anno datelo a vedere se non l'avete visto ma anche lì dicevo ragazzi che l'eventuale fase di approvazione degli ETF di Bilconi non è che poi avrebbe probabilmente generato un pub apocalittico con quei numeri stellari che vedete 100.000, 2.000, queste cose così non aveva senso, il concetto era che però si passava da un asset che è ancora immaturo ancora non istituzionalizzato ad un asset che poi viene istituzionalizzato e che lì in sostanza è uno scam non si potrà più dire cioè anche puoi dire che il bitcoin è uno scam se esiste un ETF cioè è un investimento che può andare male ma certamente non è uno scam non è uno schema Ponzi o roba del genere quindi è ovvio che il concetto dell'arrivo all'ETF cambierebbe le carte da questo punto di vista però da un punto di vista oggettivo di speculazione sul prezzo più o meno questo andamento è accettabile qui era un più 8 in un giorno magari poi sarebbe proseguito arriviamo a un più 20 in una cosa del genere ma numeri contenuti rispetto a quelle gigantesche insomma che si andavano a vociferare però c'è anche da dire un'altra cosa l'ETF non è scontato su bitcoin perché se abbiamo visto una reazione del genere in pochi minuti evidentemente questa news non è scontata ragazzi questo è il discorso quindi ci sarebbe a quel punto una corsa all'oro e ci sarebbe una serie di liquidazioni legate agli short che innescherebbero questi meccanismi i soliti di cui abbiamo ampiamente parlato ora detto questo fatemi sapere cosa ne pensate voi hanno fatto un test per vedere se effettivamente quando e come conviene approvare questa news magari un bel weekend no ragazzi quando non c'è nessuno i volumi sono bassi ancora più si andrebbe a creare questa massiccia speculazione sarebbe terribile il venerdì notte allora oppure semplicemente è stato una manipolazione per far liquidare gli short per far uscire qualcuno per creare volumi anche per gli exchange e quindi qualcuno che ci lucra le balene eccetera sulle spalle magari in questo caso degli short che erano espotti a questo mercato e magari stavano andando anche bene negli ultimi giorni e si sono presi questo treno in faccia scrivetemelo nei commenti ragazzi così ci confrontiamo vediamo un po' quale sono le cose che tiriamo giù andiamo a vedere invece da un punto di vista tecnico che cosa è successo in pratica era già dal weekend che bitcoin si stava avvicinando ad una fase nuova di risalita indicando sostanzialmente che il ciclo mensile era stato chiuso a 30 giorni e non lo fa veramente quasi mai ormai negli ultimi periodi a 30 giorni dall'ultimo minimo che era quello iniziato l'11 settembre quindi probabilmente il ciclo mensile è chiuso qui ci sta alla grande abbiamo superato i massimi volenti o non volenti manipolazione o no c'è da dire che bisognerà attendere la chiusura di questa candela perché essenzialmente senza la chiusura di questa candela a prescindere dall'atto di manipolazione non possiamo proprio indicarlo con precisione però manca qualche ora insomma la giornata ci può stare ovviamente una candela che chiuderebbe al di sopra dei 28.400 sarebbe indicativa di molta forza a prescindere dalla fake news da parte di bitcoin stesso allora qui è tendenzialmente dovrebbe essere iniziato un nuovo ciclo mensile di bitcoin è interessante sarà andare a vedere l'evoluzione perché ragazzi tutte quelle che erano le carte in gioco di cui abbiamo un po' parlato nei video scorsi ma di cui ho fatto un briefing estremamente importante in academy ma sull'idea che addirittura il mese di dicembre potesse anche creare un eventuale massimo e non un minimo quindi c'è proprio una view ciclica che indica questa cosa e proprio si sviluppa in questa settimana quindi badate bene che a volte le cose non sono casuali quindi anche questa volatilità massiccia è stata creata anche ad hoc oppure la fase ciclica che la va in pratica a influenzare alcuni dicono prima l'uovo dopo la gallina nessuno sa la verità quindi sono i cicli che influenzano oppure i cicli vengono influenzati alle manipolazioni io essendo un po' scientifico preferisco la seconda ipotesi però non è detta che anche la prima sia vera mi piace un po' la parte un po' più astrale ma diciamo così a me non piace io sono un po' statistico e quindi preferisco la parte scientifica allora la questione ciclica quindi si sviluppa a questo punto indicando che qui siamo in un nuovo ciclo trimestrale di bitcoin il precedente ciclo è stato chiuso a 88 giorni questo ciclo trimestrale che va a chiudersi teoricamente a dicembre è l'ultimo teorico ciclo trimestrale del ciclo annuale di bitcoin che dovrebbe essere ribassista secondo la teoria ciclica e quindi dovremmo teoricamente andare a fare un minimo inferiore a quello di partenza che in questo caso è dato a 24.009 entro dicembre 2023 più o meno dicembre gennaio una cosa del genere teoricamente quindi come vedete questa fase di up ci sta alla grande sia con la views che questo trimestrale poi diventi ribassista e quindi prima ipotesi quella teorica sia con un'altra ipotesi ragazzi che qui sia stato già chiuso un sotto ciclo dell'annuale che è un ciclo più corto un'anomalia tecnica che poi potrebbe in effetti portarci invece a un nuovo massimo facciamo così siccome poi il video è già abbastanza lunghetto se vi interessa questo argomento scrivetevelo anche questo nei commenti facciamo un video dedicato solo a questa views ma io ho bisogno ancora di questa settimana perché se questa settimana si sviluppa secondo un'app voi sapete già che stiamo parlando di questa seconda ipotesi non ha senso però farci un video sopra se noi da qui iniziamo la fase naturale appunto quella che tutti si aspettano che è la fase di chiusura io vi ho anche detto che tutti si aspettano questa fase così forse è un po' troppo facile e infatti qui hanno liquidato 50 milioni di short selling proprio perché ragazzi poi quando le cose sono ghiotte quando ci sono queste pool di liquidità a disposizione dei manipolatori diventa facilissimo creare queste speculazioni in un mercato piccolo e si fanno questi giochini se tutti si aspettano un ragionamento è ovvio che il mercato tenta di fregare tra virgolette tutti gli analisti tutti i retail e cercano di manipolarsi a vicenda io non sono convinto che se non sono i retail in questo caso alcuni anche grossi saranno stati liquidati liquidati perché le liquidazioni sono comunque importanti non è che è una liquidazione piccolina vabbè interessante comunque questa struttura solo una secondo me chiusura di questa giornata al di sopra di 28.000 scusate e 5.28.600 innescherebbe dal mio punto di vista una forza un po' anomala per una struttura trimestrale che dovrebbe da qui iniziare una fase di declino certo è ancora possibile perché siamo a pochi giorni dall'inizio di questa struttura considerate un trimestrale dura dai 70 ai 90 giorni in media poi alcuni vanno anche oltre i 100 però qui vedete qui non siamo neanche a metà più o meno dei 90 giorni dovremmo arrivare qui quindi è possibile anche vedere un atteggiamento del genere ragazzi e poi una cosa così magari con un trimestrale in barra di congestione neutrale perché l'effetto cammello il mercato lo ha dimostrato diverse volte perciò qui segnali di ribasso non ce ne sono nel trend di breve periodo questa è una manipolazione che lascia estremamente pensare ad una cosa negativa ma è anche una manipolazione che ha innescato semplicemente il ritorno di bitcoin a un prezzo che era uguale a quello di prima pochi centinaia di dollari sopra quindi sostanzialmente è stata riassorbita interamente perciò dove siamo ora in questo momento è tutta opera del mercato non è opera della manipolazione di solito poi c'è un atteggiamento tecnico queste shadow pronunciate vengono il giorno dopo recuperate in piccola parte quanto meno dal mercato perché sono comunque uno shock da un punto di vista tecnico anche riflessivo questo atteggiamento lo si vede più volte quando le shadow sono estremamente pronunciate il mercato solitamente lo fa guardate anche qui vi faccio rivedere una shadow estremamente importante vedete a rialzo questa qui che poi nei giorni successivi vedete non il giorno successivo ma nei giorni successivi è stata recuperata dal mercato quindi bisogna in ogni caso monitorare estremamente questa situazione ma è molto interessante attenzione a breakout confermati vi ripeto dei 28.500 questa zona qui perché poi la successiva resistenza l'ha già toccata come vedete quando ha provato 29.700 attenzione perché anche in questo caso solo e unicamente il superamento dei massimi del 2023 di bitcoin ci indica che qui la ipotesi 1 quella che vi dicevo di un trimestrale ancora da chiudere per contribuire da un'annuale che poi diventa ribassista verrebbe annullata in pratica completamente quindi solo in questo precisi specifico caso detto questo ragazzi è interessante sarà estremamente interessante secondo me andare a vedere quello che succederà vi faccio vedere una piccola struttura di quella che è la fase invece ciclica è più breve ed è la struttura in pratica dei cicli settimanali qui è iniziato un nuovo ciclo bisettimanale di bitcoin sul minimo del 11 di ottobre sta facendo un'app ha intanto indicato che ha superato i massimi del mensile precedente andando a indicare in pratica che questo trend rialzista continua quindi non è stato confermato in nessun modo un atteggiamento ribassista e questa è ragazzi alla fine è vero che fa un zigzag però rimane rialzista l'atteggiamento da punto di vista di tecnico insomma di statistico puro al di là dell'analisi ciclica questa struttura teoricamente dovrebbe aver fatto un 4 giorni in questo punto quindi cicli veramente brevi quindi se volete proprio ragionare in termini di breve periodo e se fa un classico ciclo binario quindi a 2 settimanali il settimanale andrebbe in chiusura giovedì prossimo e quindi fra 3 giorni potrebbe anche aver toccato quindi il massimo del settimanale poi cincischiare qui in mezzo fare una cosa del genere se non crolla e chiudere in questo punto tutto rimandato quindi poi alla seconda parte di questo trimestrale allora lecce sono per non va più come si diceva una volta vabbè un po' di movimento ci piace il fatto che siano andati tanti short che magari avevano costruito la loro posizione in maniera coerente corretta da una serie di analisi che in effetti riportano quella che è l'ipotesi principale ci sta è anche vero che questa sorta di manipolazione ha liquidato gli short ma non gli ha dato neanche modo di uscire dalla loro posizione perché potrebbero rientrare tranquillamente ad essere short nuovamente alcuni lo hanno anche fatto secondo me i giochi sono ancora da fare vediamo che cosa succede stiamo attenti che non escano nei prossimi giorni news invece confermanti quello che aveva detto cointelegraph vediamo che cosa dirà cointelegraph fra poche ore chi è stato il responsabile se capiremo un po' di più su questa vicenda per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao